Erika Pronozella, Martina Rossa inizia la preparazione della Flaioni, lungo viaggio in vista del nuovo campionato di SRA. Vi sentite pronte già? Prontissime, già da questa mattina abbiamo cominciato la preparazione, quindi inizia un nuovo percorso. Siamo pronte, siamo cariche, speriamo del meglio. Martina, come sono stati questi allenamenti? Sono faticosi? Allora, un po' sì, sono sincera, però comunque sia sappiamo che dobbiamo farli e prepararci al meglio per iniziare questo campionato nel migliore dei modi, cercando di affrontare questo campionato che non sarà facile. Siamo entrati nel mese di agosto, sicuramente tante vostre amiche saranno a spasso, in viaggio, qualche meta bellissima, invece voi siete qui alla palla drammatica d'Ale Nafi, com'è? È dura, però la passione è passione, quindi siamo qua, pronte ad affrontare questa preparazione. Cosa speri per il campionato che sta per arrivare? Beh, mi auguro di non arrivare tra le ultime classificate, chiaramente. Le ultime due, magari mettere due sotto. Certo, e quindi puntare alla salvezza, questo è poco mi assicuro. Poi se c'è qualcosa di più, ancora meglio. Capitano, primo mese di campionato vedrà voi fronteggiare diverse squadre che sono o neopromosse o ripescate, quindi sarà importante fare già alcune vittorie nelle prime giornate. Sì, sicuramente conosciamo qualche squadra, altre non le abbiamo mai incontrate, però insomma, dalle Final Six abbiamo dimostrato che siamo in grado di poter affrontare questo campionato. E strada facendo vediamo come vanno le cose, noi ce la stiamo mettendo tutta e stiamo in Serie A, quindi qualsiasi cosa va bene. Ho parlato con Coach Pacifica, ha detto che gli allenamenti cambieranno totalmente? Sì, sì, stamattina già ce l'ha dimostrato, quindi va bene così, nel senso che affrontando squadre del genere dobbiamo essere pronti a tutto, quindi meglio allenarsi ora, allenarsi bene che perdere poi tutte le partite dopo.